Buongiorno, stamattina abbiamo tenuto la giunta, abbiamo approvato una delibera dichiarando Acerra, città delle donne, gli stati generali delle donne. Abbiamo a posto qui una panchina che riporta una famosa frase di Shakespeare sulle donne. Abbiamo voluto dare un segnale importante perché questa delibera prevede un percorso affinché nella nostra città le donne trovano le migliori condizioni per esprimersi in tutti i settori. È un atto che pubblicheremo a breve e potete vedere tutto il percorso che è iniziato nella nostra città da tempo e che aderendo a questo progetto seguirà tutti i passi da fare per essere una città sul modello europeo.